Della questione cittadella dello sport a Merito ne abbiamo parlato con Luciano Motto, la vice sindaco del comune ed assessore allo sport. Anche lui presente a Manchester insieme al primo cittadino a mente. Ci sono dei rapporti intensi tra il sindaco di Merito, il dottor Antonio Mente ed il presidente dell'Aurense e più in generale con la società. I rapporti avviati già da diversi mesi si è discusso e si discute di varie cose tra cui anche le argomentazioni che chiedi sono diventate di dominio pubblico nazionale. Ci sono stati vari discorsi con tantissimi comuni, perché Merito dovrebbe essere diverso? Questo bisognerebbe chiederlo alla società sportiva Calcio Napoli. Per quanto ci riguarda c'era stato chiesto di individuare alcuni terreni, è stata fatta questa individuazione. Come ha già ricordato ieri il sindaco a mente c'è un ufficio tecnico che lavora per la fattibilità dell'operazione. Ci sono degli architetti e degli ingegneri in comune che sono impegnati su questo progetto. Vediamo dove si potrà arrivare, se sono rose e fioriranno. Le operazioni che riguardano? Uno stadio, un campo, le giovanili? È stata una bella domanda. In sostanza si era partiti per la costruzione dello stadio. Poi dopo Manchester, dove siamo stati ospiti del presidente, era sorta nella dirigenza azzurra la volontà di voler costruire uno dei più grandi centri sportivi d'Europa. Non a caso ne abbiamo visitato quello del City, che penso sia all'avanguardia, una struttura eccezionale. E il presidente dell'Orentis pensa che non voglia fare una cosa che sia da meno. Ad oggi l'attenzione è mirata sul centro sportivo, ma se dovesse esserci una sinergia con i proprietari dei terreni, perché va ricordato che appartengono per la stragrande maggioranza a privati, non è assolutamente trascurabile l'ipotesi che si possa pensare anche alla realizzazione di uno stadio. Grazie. 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 Grazie.